buongiorno buongiorno oggi è 31 maggio martedì 31 maggio la segna stampa di video 33 la segna stampa in breve continua ad essere perturbato il cielo cielo nuvoloso sopra la provincia di bolzano l'immagine che arriva dall'alta val venosta siamo sulla conca che ospita il centro abitato di malles vedete la neve ancora presente sulle montagne sulle vetere montagne sono previste ancora più oggi comunque non mancheranno sprazzi di cielo sereno estrema variabilità massimo moro è in regia allora grazie al suo aiuto diamo un occhiato alle aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola il capoluogo avrà un governo caramaschi volkspartei incontro serrato di fede dice avviamo un percorso comune lungo confronto e municipio la grande municipio la grande coalizione tagnin respinge l'offerta la festività del sacro cuore la caritas contesta il volantino di heimat bund la festa spiegata ai migranti fuochi sulle montagne la cronaca cura dell'alto adige qui ci spunta un movente si complica la posizione della donna accusata di omicidio il pm dice il movente esiste è stato avviato il processo arrivati 25 migranti scampati ai naufragi ai piani per tre mesi madre figlia vittime di un frontale a prato isarco gravemente ferite tutto questo alle porte di bolzano pochi minuti prima delle otto la cronaca lingua teresca cura del quotidiano dolomita nel quello che accade in consiglio in consiglio regionale il ruolo il ruolo decisivo del pat vidman guiderà l'aula vicepresidenza caos a livello trentino la cronaca che ci porta nella pagina nella pagina di cronaca nera l'incidente l'incidente gravissimo ieri al nella zona della zona di prato isarco ieri mattina presto chiudiamo con il quotidiano tag est site un l'apertura dedicata alle quote latte le ultime novità i dettagli a pagina 45 e poi il processo processo che vede imputata ester qui ci processo ieri a bolzano è tutto vi ringrazio per aver scelto come sempre informazioni di video 33